Onorevole Lupi, Taranto urla il diritto alla vita, chiusura dell'Ilva senza sé, senza ma. Voi sostenete un candidato sindaco, Musillo, ex segretario provinciale del PD, che ha collaborato, che politicamente era dalla parte di Renzi con i decreti Salva Ilva e Ammazza Taranto. Come si fa a sostenere uno che appoggiava quei decreti a Ammazza Taranto? Io non direi che sono decreti a Ammazza Taranto, anzi sono decreti che devono salvare Taranto. No, salvare l'ex Silva. Taranto ha il dovere e la dignità e mi sembra che è la testimonianza poi anche del suo vescovo, che è da sempre in prima linea, di essere una città che pensa a un gruppo, che tiene insieme salute. Non ha mai tenuto insieme lavoro e salute. Questo lo decideranno non solo lei. No, ci sono i morti e gli ammalati di cancro, cosa dice? E questo mi sembra un dramma. Non è un motivo per emettere ordinanze. Che cosa? Mi scusi, vuole fare lei un comitore? No, 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 non ne faccio. Voglio soltanto sapere da lei l'ipocrisia che state mettendo in campo, perché non volete l'Ilva chiusa e giocate sulle parole. Ma si canta. Sì, sono candidato sindaco, perché il suo candidato sindaco, Musillo, rifiuta i dibattiti televisivi. Onorevole, come fa il centrodestra a sostenere l'ex segretario provinciale del PD? Onorevole, risponda. Onorevole, come fa il centrodestra a sostenere il candidato sindaco ex segretario provinciale del PD? È un imbarazzo? No, assolutamente. Che risponda, sono candidato. È perfetto. No, ma come fa il centrodestra a votare, a sostenere la destra e il centrodestra? La cosa più importante è che non candidiamo lei, grazie. No, mai con i Volta Gabbana. Mai con i Volta Gabbana.